buonasera e ben trovati ben arrivati cari allievi della lux l'università della conoscenza e questa sera da vostro vostro rettore vengo per dare il benvenuto al nuovo docente della della nuova disciplina e io sono veramente molto felice di aver aggiunto anche questa disciplina alla nostra lux soprattutto di avere come docente bernard ruffi la gli insegnamenti che lui ci darà sono riferiti appunto proprio come dice il post che voi avrete letto educazione alla percezione del mondo invisibile e per noi davvero un grande onore avere un docente del livello di bernard e io sono contenta che voi altri possiate beneficiare delle sue parole e di tutte le sue conoscenze e per chi non conoscesse che è bernard ruffe bernard ruffe innanzitutto è una persona speciale come si dice è un uomo che ha vissuto delle esperienze anche molto straordinarie un grande ricercatore vive esperienze con il mondo immateriale fa viaggi in astrale ha scritto un suo primo libro che il gioco del perdono che abbiamo presentato nel salotto di anna qualche tempo fa e e soprattutto un grande insegnante delle terapie sene va in giro per il mondo tenere seminari conferenze insomma non siamo veramente molto molto felici di averlo qua con noi su focus il mistero della vita e quindi io direi di fare entrare bernard grazie ben arrivato buonasera buonasera a tutti ben arrivato bernarda alla lux l'università della conoscenza io vengo proprio per darti il benvenuto come fa un rettore che dà il benvenuto ai suoi docenti dicevo ai nostri amici che siamo molto felici su focus 3.0 di averti come docente dentro la lux e di inaugurare questa sera questo nuovo corso sull'educazione della percezione del mondo invisibile molti ringraziamenti anche da parte di enrico balantini come sempre che è fondatore di focus 3.0 e vedo che i nostri amici stanno iniziando arrivare sai che sei molto atteso grazie hai visto i messaggi e che ci sono li vedi hanno scritto delle cose molto belle erano tutti quanti in attesa di ascoltarti vedo che siamo già tantissimi mamma mia che bello allora io il caro bernarda ti rinnovo ancora il benvenuto nella lux non voglio portare via dello spazio del tempo al tuo insegnamento ti lascio la cattedra e vado a sedermi sui banchi ad ascoltare le tue lezioni e poi il ritornerò per venire insomma salutare tutti i nostri amici voglio solo ricordarvi che con questa piattaforma non si vedono i nomi di chi fa le domande quindi quando fate la domanda alla fine mettete il vostro nome così bernarda può rispondere chiamandoli per noi bene bernarda va bene grazie un onore per me e complimenti per questa bellissima iniziativa che avete anna che avete creato il focus 3.0 e e quindi è stato un grande aiuto sai bernard questo quando io l'ho pensata e l'ho creata e con enrico e lo ringrazio perché ha avuto stima e fiducia nei miei confronti in quei giorni che sono stati giorni pesanti non dell'occa tante persone migliaia di persone alle tre del pomeriggio tutti i pomeriggi c'erano lezioni e quindi veramente abbiamo dato un grande aiuto è stata una bella cosa ringrazio tutti i vecchi allievi e anche i nuovi e cedo la parola e buon lavoro io vi seguo dai banchi buon lavoro bernardo grazie anna ecco buonasera a tutti sono contenti siete in tanti e mi fa molto piacere in questa prima volta su questo formato qui a focus 3.0 sono molto lieto di avere tutti vedo che i numeri si aumentano di persone e quindi mi fa molto piacere perché per me questo argomento è la mia vita infatti e quindi da piccolo ho iniziato avere conoscenza dei mondi sottili e questo devo ringraziare anche i miei genitori che mi hanno sempre aperto questo mondo e quindi sono stato cresciuto da una madre monaca buddista quindi tre mesi all'anno andavo in monastero e quindi li ho potuto scoprire attraverso il mondo buddista tutte le diverse realtà diversi livelli e poi sono anche stato cresciuto in india nel contatto con grandi maestri spirituali che mi hanno insegnato questo mi ha dato una grande spinta e poi dopo ringrazio mia cugina anna givaudan e suo marito di allora daniel meroi che mi hanno insegnato anche loro da piccolo quindi erano ero a casa loro e questo mi ha dato una grande apertura e volevo e poi i suoi seguirli di grandi maestri che mi hanno dato questa apertura che vorrei offrirvi oggi questa sera sarà l'inizio di una serie di incontri poi anna vi darà le date comunque le ricorderò e quindi l'idea sarebbe di fare un percorso lentamente per aprire le possibilità vorrei offrirvi questa possibilità di stupirsi sulle diverse dimensioni del nostro essere quindi faremo una presentazione un po una spiegazione con delle immagini per rendere tutto chiaro perché più le cose sono invisibili più bisogna renderle concrete e poi tranquillamente faremo degli esercizi insieme di modo di rendere tutto questo il più pratico possibile potete anche tranquillamente fare le vostre domande con i messaggi che che avete così alla fine di questo incontro cercherò di rispondere più che posso alle le vostre tante domande quindi volevo dirvi che sono contento perché approfitto di questo momento di confinamento che è un qualcosa di buono perché non sono in giro perché solitamente viaggio molto spesso all'estero e quindi per dare conferenze corsi e quindi questa volta sono a casa e questo è grazie finalmente questo confinamento a molte cose buone allora volevo iniziare a presentare questo questo introduzione perché può essere solo un'introduzione in un'ora non si può fare molto ma avevo l'intenzione di introdurvi a i diversi livelli sottili dal mondo invisibile in qualche modo andiamo non solo può a capire a toccarlo col dito il mondo invisibile ma abbiamo andiamo soprattutto ad assaporarlo e credo che sia questo il leitmotiv di questi corsi è che non usciremo da qua senza vivere perché così questo è un iniziamento molto profondo delle diverse vite spirituale che più si parla di un argomento sottile invisibile e più bisogna saperlo rendere concreto concreto più concreto possibile per poterlo ancorare e di modo che queste cose pian piano si renderemo conto che sono ancora più importanti che la realtà fisica ossia il mondo sottile ha una preesistenza una priorità con rispetto al mondo fisico lo sappiamo bene una volta che arriveremo oltre il velo non avremo più questo corpo fisico ma meno male l'anima rimane e nello stesso modo per le piante per gli oggetti tutti hanno una realtà sottile che può esserci a livello fisico o può non esserci per esempio un fantasma che non ha più il corpo fisico eppure con noi e vive questa realtà quindi non è il tema di sviluppare perché ne potrei parlare durante ore di quel tema dei fantasmi ma vorrei introdurvi ai diversi livelli interiori sottili ossia non è che abbiamo un corpo fisico e un mondo sottile Cristo diceva ci sono tante stanze nella casa del mio padre ossia tanti universi tanti livelli e noi andiamo a esplorare soprattutto i cinque primi livelli che sono quelli sviluppati un po da noi che siamo esseri ordinari chiaramente c'è su questa terra grandi maestri che hanno già sviluppato il sesto corso corpo e che chiaramente hanno una attrazione una presenza anche un impulso notevole perché questo livello li rende ancora più grandi quindi non vi preoccupate andremo piano 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 andiamo a scoprire il livello fisico questo è ovvio lo conosciamo anche se abbiamo tanto da scoprire poi il primo livello sottile che andiamo a vedere è il livello vitale livello dell'energia vitale anticamente veniva chiamato eterico oggi mi piace di più parlare di energia gli antichi egizi lo chiamavano il doppio perché ha una forma così simile al corpo fisico e poi quindi parleremo a lungo cercherò di spiegarlo e di renderlo più concreto possibile perché in questo momento mi state ascoltando anche con quel livello lì che ci da quel livello stanchezza la forza vitale l'energia di muovermi non potrei muovermi senza questo livello la mia anima non potrebbe vivere dentro di me è come l'acqua e l'olio se non c'è un emulsificante che gli permette di tenere insieme dopo un po l'olio risale sempre e quindi l'anima riserva saremo rapidamente morti senza questo livello così importante poi andiamo a parlare del del livello emozionale e scoprire chiaramente tutte le metti di questo livello quanto importante come lo possiamo vivere sentire dentro di noi poi non vi preoccupate non faremo tutto questo questa sera lo vedremo nel diversi corsi che faremo andremo a scoprire il mondo dei pensieri e vi farò un tuffo in questo modo come pensiamo che cosa sono i pensieri come ci affettano come possiamo influenzare gli altri ci sono tantissime cose da dire e poi parleremo del quinto corpo che il corpo dell'intuizione o viene chiamato sopra mentale corpo causale e che rappresenta un livello più elevato in qualche modo per la maggior parte degli esseri umani e poi chiaramente per qualcuno che più avanti abbiamo anche il corpo del dello spirito divino che in qualche modo quando uno ha una missione importante allora sviluppa quel corpo li fatto questo così si vede più di più quindi volevo spiegarvi questi diversi livelli per capire meglio come si interfacciano e siamo noi anche senza rendersi conto l'insieme di tutto questo per darvi un esempio concreto in questo momento mi state sentendo e quindi passa dall'orecchio eppure capite le mie parole addirittura non pensate più che dico parole eppure queste parole vengono registrate da un microfono che poi viene mandato per internet risentetizzato con gli auricolari che avete o con l'autoparlante del computer che poi arriva alle vostre orecchie che poi arriva il cervello che lo reinterpreta che cerca di trattare un senso ma non è solo quello perché c'è un qualcos'altro che passa se no non ci sarebbe differenza tra una registrazione e un incontro del vivo perché se la registrazione tiene solo quello che è stato registrato a livello suoni ma quando c'è la diretta c'è un qualcos'altro che passa direttamente e che non per il quale non importante nello schermo nel microfono ma arriva lo stesso e quindi questi sono diversi livelli funzionano in contemporanea senza bisogno di pensarci abbiamo costantemente questo suono con l'immagine chiaramente che passa e che va in tutti i diversi livelli dal livello fisico ai livelli più sottili di senso più profondo fino al livello spirituale dello stesso modo funzioniamo noi e quindi vado a entrare in questo argomento e oggi in particolare vado a parlare del nostro corpo vitale della nostra energia e soprattutto perché quella più facile da percepire è il livello più vicino al corpo fisico e la mia sfida è che ognuno di voi potete sentire e capire la realtà di questo corpo questa sera e sono sicuro che ognuno di voi potrete sperimentarlo perché sennò diventa solo una conoscenza intellettuale che per carità va bene ma se siamo qua stiamo parlando di qualcosa di più profondo e quindi andiamo più in profondità in questo allora la cosa che voglio cominciare è un piccolo chiarimento per spiegare che spesso è una confusione che facevamo quando parlo di corpi parlo di diverse parti di noi che sono dentro e che d'altrondo sono così evidenti tra poco sono sicuro che vi direte ma quello che dice Bernardo lo so già da sempre infatti andiamo a mettere dei nomi su delle sensazioni che abbiamo e capire quanto le nostre sensazioni vengono dal campo sottile e quanto poco vengono dal corpo fisico ed è una cosa molto interessante anche alla base sono ingegnere fisico e ho fatto le ricerche in astrofisica quindi sono ingegnere meccanica quantistica e quindi ho passato anni della mia vita a studiare e approfondire la materia eppure anche nella fisica si rende conto di quanto sia importante la coscienza quindi questo non è l'argomento di questa sera ma volevo dire che questo è il nostro corpo vado a parlare dei corpi poi chiaramente ognuno di questi corpi è come una fiamma gli antichi esseni parlavano delle sette fiamme perché infatti dovremmo avere sette corpi in tutto quindi dovremmo avere le sette fiamme e come una fiamma della candela ha il suo corpo che è la fiamma stessa che siamo noi e ha una sua irradiazione che si chiama aura ok che è il termine saskritto che è la luminescenza, lo splendore sarebbe zohar, splendore in ebraico e quindi è proprio questa manifestazione che tocca l'altro che fa sì che in questo momento vedete un viso, degli occhi, una bocca, un naso ma spero che capite che c'è qualcosa di più dietro, speriamo quindi andiamo a scoprirlo e scoprire alla volta vado a parlare del corpo o dell'aura ma ricordatevi che parlo sempre della stessa cosa perché l'aura è l'emanazione del corpo quindi se il corpo, la fiamma è forte, robusta e cercheremo di aumentarla per aumentare le nostre difese anche in questo momento di coronavirus è importantissimo sviluppare queste difese del primo corpo sottile corpo vitale, corpo eterico e dopo chiaramente va a avere una forza intorno che va a arrivare alle persone volevo dirvi che vado a usare ogni tanto diversi termini perché a seconda delle diverse tradizioni sono stati chiamati in tanti modi allora il nome di questo corpo di cui andiamo a parlare è il più antico e il corpo eterico è stato Charles Lee Bitter che è stato un grande uomo uno dei più grandi vedenti dell'aura e che credo che abbia conosciuto il mondo uno scienziato dell'anima in qualche modo e lui stesso è stato capace di vedere la realtà dentro gli atomi dentro quindi dei quark prima che fossero scoperti con la lettura dell'aura ossia un uomo incredibile che è stato qui ha conosciuto Alice Bailey ha conosciuto anche Elena Blavatsky quindi stiamo parlando dell'inizio del secolo scorso quindi sul libro magnifico del 1945 sui chakra che è 42 che è molto interessante quindi avete un sacco di libri che potete ritrovare allora adesso vado a provare a mettere delle immagini perché così parlano un po' di più e vado a vedere se riesco a farlo mi permettete solo un attimo voilà ecco credo che mi vedete spero che vedete tutti bene l'immagine vedete come qua bisogna capire che l'aura è come un involucro quindi più la nostra fiamma interiore è risvegliata e più si espande intorno e più abbiamo intorno a noi una manifestazione che può prendere qualche metro a seconda delle persone e questo si chiama carisma ossia più una persona ha un irradiamento interiore forte e più automaticamente crea un effetto e cambia intorno a sé alla vibrazione l'energia la frequenza ecco perché è così importante soprattutto in questo momento in aiuto oltre le parole la persona che sta accanto a te percepisce che qualcosa di speciale c'è non sa come ma oltre le parole oltre lo sguardo c'è la presenza e quella presenza semplicemente è l'ora e quindi dopo questi esercizi che faremo questa volta le volte successive andremo a sviluppare questa emanazione perché si parla molto di spiritualità ma credo che oltre tutte le parole quello che rimane è quello che viviamo mi ricordo sempre dei primi allievi anni fa a Parigi parlo del 93 e dopo anni li ho ritrovati abbiamo cenato insieme e gli ho chiesto ma cosa vi ricordate un po' di quello che ho detto in tutti questi anni e mi hanno risposto molto semplicemente non ci ricordiamo niente allora subito da un insegnante non è che sia al massimo quando un allievo ti dice questo e invece gli ho chiesto ma che cosa qualcosa sarà rimasto e loro mi hanno detto questa frase che mi è rimasta sempre non ci ricordiamo quello che tu ci hai spiegato ci ricordiamo quello che tu sei e credo che sia questa la cosa più importante non è tanto di parlare bene o di dire le cose giuste ma se noi viviamo dentro di noi quello che vogliamo insegnare tutto è possibile se invece cerchiamo di diventare papagalli chiaramente la gente lo sente ed è quello che è importante in questi corpi sottili man mano che andremo a visitarli questi diversi corpi sottili potremo capire che loro si espandono quando la nostra spiritualità l'avremo mangiata e lavorata digerita allora si diventa parte di noi ed è quello la cosa più importante e loro si vanno a espandere quando la nostra vita spirituale è concreta ossia manifestata nel quotidiano allora vado a vedere se riesco a far cambiare le immagini sono come una bottiglia sembrano una bottiglia che possono anche essere una protezione perché vanno a assicurarsi che intorno a noi nessuno può prendere il sopravvento ossia ci permette di dare la nostra autonomia del pensiero nessuno ha diritto di entrare nel nostro spazio sacro e questa è una grande legge universale e più noi prendiamo esterniamo quello che siamo e più automaticamente si crea questa libertà di pensiero la stessa libertà che vorrei che voi avesse anche nei confronti di quello che dico in questo momento ossia anche il Buddha stesso ha detto ai suoi discepoli non vi chiedo di imparare a memoria o di credere sulle mie parole mettetelo in dubbio e perché l'avete metto in dubbio quando saranno accettate rimarrando molto più a fondo che ci sono parole che volano e quindi dopo la nostra strada interiore ed integrare questi diversi corpi sottili come potete vedere su questo dipinto di Alice Gray sono diversi lati il primo livello è quello che vedete più vicino al corpo fisico ossia lo vedete qua che è proprio questo splendore questa luce che c'è appena sopra sopra il corpo e poi vedete il corpo l'aura emozionale e poi l'aura mentale sono le due l'aura causale non è disegnata in questo e potete vedere che anche ci sono aggressione vedete a sinistra comunque vada c'è uno può continuare il meraviglioso percorso della sua vita allora ogni questo corpo corrisponde a una realtà ossia c'è il mondo fisico come lo potete vedere in basso in questa immagine ma quando si viaggia nei diversi mondi si rende conto che ogni mondo ha una sua tessitura una sua materia densità e una sua caratteristica e quindi il corpo eterico il corpo vitale come lo potremmo vedere sarebbe più o meno la seconda immagine quando uno inizia a vedere poi piano piano prende colori ma quando uno arriva in questi livelli vorrei chiamare un po' il secondo cielo il primo cielo del colore fisico ci siamo nel primo cielo dei sette celli di cui si parla spesso arrivare al settimo cielo allora sarebbe per noi che siamo in questa frequenza vedere l'eterico all'inizio inizia con un solo colore quindi poi vedete l'albero in basso all'immagine ma vedete un po' sbiadito questo sarebbe visto dalla nostra frequenza il mondo dell'alila chiaramente se uno è un fantasma o appena morto allora e sarà la rovescia perché quel livello lì sarà molto più facile da vedere invece quello fisico diventerà un po' sfocato un po' sbiadito perché non siamo sulla stessa frequenza e poi ogni volta che si innalza di un livello la realtà è diversa ci sono tante realtà che ci avvicinano sempre più alla presenza divina in qualche modo più andiamo avanti nei corpi sottili e più ci avviciniamo a Dio e alla realtà divina e quindi richiede di pensare diversamente i concetti stessi alle quali sono abituato nella materia vanno cambiati e questo bisogna impararlo un po' perché le grandi certezze che abbiamo che tutto inizia dalla materia sono false e lentamente capisci che quello che è la preeminenza sono i corpi sottili infatti come dicono i musulmani cinque volte al giorno Allah Ouagbar ossia Dio è ancora più grande ossia qualunque definizione che tu fai di Dio Dio è ancora più oltre infatti nelle loro nomi sanscriti di questi corpi per esempio il corpo fisico si chiama Manomaya Kosha ossia Kosha significa corpo mano terrestre concreto denso mano Maya Maya che significa illusione quindi Manomaya Kosha è l'illusione della densità il corpo dell'illusione della densità il secondo livello di cui stiamo parlando oggi questa sera si chiama Pranamaya Kosha quindi Pranamaya energia il corpo dell'illusione dell'energia e tutti i corpi si chiamano sempre Maya quindi Manomaya Pranamaya Pranamaya e così via sempre Maya perché sono tutte illusioni perché il giorno in cui saremo a livello dell'illuminazione tutti questi sono solo i velli ecco perché la danza dei sette velli dobbiamo togliere i diversi velli della nostra visione un po' come lo diceva Maria Maddalena che la vita spirituale non è altro che togliere dei velli davanti ai nostri occhi e questa sera stiamo togliendo un velo cerchiamo di togliere un velo per capire questa realtà più sottile infinitamente più profonda che è la realtà vera la realtà che c'è dietro in qualche modo per rifarsi il mito della caverna di Platone in qualche modo stiamo andando tutto questo sono ombre sono le ombre proiettate sul muro della nostra realtà primaria quindi il corpo fisico minerale ogni livello associato a un elemento quindi corpo fisico questo è facile composto degli organi che funzionano chiaramente questa è la prima visione che corrisponde a un livello ma vedete che spesso c'è una grande differenza e lì si trova il primo acceno ai corpi sottili è che ci sono dei dolori strettamente fisici perché ci siamo fatti mali siamo dati un colpo di martello tutto questo sono dolori molto fisici ma la stragrande maggioranza dei dolori si sentono a livello fisico ma si spostano un giorno ce l'abbiamo la spalla alla fine l'altro giorno un po' di qua si spostano nel corpo se fossero davvero fisici non si sposterebbero e questo sono i famosi dolori vitali dolori energetici e io li chiamo senza fissa dimora perché vanno a fissarsi in diversi parti quindi andiamo a parlare del corpo vitale che è associato all'elemento vegetale perché vegetale perché gli vegetali hanno questo corpo molto sviluppato e quindi natura hanno essenzialmente questo corpo ma lo vedremo non vado ad entrare in dettagli perché chiaramente solitamente faccio due giorni su questo argomento quindi adesso in un'ora sto facendo una cosa molto veloce ma il divino ha voluto che nessun essere vivente possa essere limitato nel suo progredire verso di lui e quindi questo eterico porta in sé tutti gli altri corpi insieme e quindi ecco che ha non vado in dettaglio ma quattro sottoparti quattro parti diversi di cui parla molto bene Rudolf Steiner e tanti altri ma questi rappresentano la capacità delle piante di avere a loro modo un'emozione a loro modo un pensiero a loro modo un'intuizione pur avendo solo questo corpo che per noi serve essenzialmente a darci energia forza e salute che non è poco e vedete questa immagine è molto bella questa è Laura eterica nella sua manifestazione vedete come si vede bene questi filamenti caratteristici di questa aura eterica che semplicemente sono la manifestazione della nostra potenza e curiosamente come lo diceva Mariana Williamson e anche Nessa Mandela abbiamo più paura della nostra luce che della nostra ombra e spesso di questa energia noi ce la togliamo noi stessi non c'è nessun altro e lo vedete qua è questo corpo eterico questo corpo vitale che crea l'effetto corona in fisica e quindi si possono è l'unico corpo che si può facilmente vedere a livello fisico quindi con certe relazioni si possono vedere chiaramente vedete questi disegni fatti con la foto Kirlian e quindi si vede benissimo sulle piante questo questo eterico questo vitale quello l'abbiamo tutti noi ed è intorno a noi come se fosse acqua spesso si muove tantissimo e intorno ci sono chiaramente degli esseri che potete vedere qua questi esseri così d'arci rosse scordatevi del viso perché non mi piace tantissimo questo viso ma l'immagine è l'unica immagine che ho trovato e mi piace molto perché questi sono spesso questi filamenti li vedo ogni tanto nell'aura che sono piccoli esseri elementali esseri che ci aiutano quando siamo feriti per guarirsi e loro la vivono in questa realtà vitale in questa realtà eterica è lui che si carica di giorno e di notte quando c'è troppa energia non ci fa dormire perché siamo troppo carichi e chiaramente questi sono disturbi di questo corpo sottile è molto legato allo stress ossia che è lui che va a prendere tantissimo le tensioni è lui che va a accumulare anche tante emozioni non vissute tensioni preoccupazioni eccetera e in qualche modo si aggancia e prende soprattutto quando c'è delle piume venivano usate anticamente dai popoli dell'India del Dianone d'America per pulire giustamente questo corpo eterico perché questa materia eterica che disprende il corpo eterico si agganciano facilmente a tutti i filamenti della piuma per esempio un luogo dove si si mettono parecchio sono i cappelli ossia qualunque cosa sia filamentosa questo è il paradiso perché tante emozioni stress contenute che non sono stati vissuti si vanno a accumulare anche sulle stesse ciglie degli occhi e quindi spesso prende colore blu quando è sano quando è forte come una fiamma di gas più o meno è proprio l'esempio e quando e questo gli animali lo fanno molto meglio di noi quando prendiamo un attimo di tempo per noi vedete cosa fa l'eterico costantemente ripulisce mentre vedete che questo cane beve l'acqua si ripulisce o questo lupo si ripulisce costantemente e lui è come acqua dentro un'acqua sottile che crea questa vibrazione nel corpo caratteristica che siamo in buona salute che quando siamo nel corpo sentiamo c'è questa vibrazione nel corpo che ci dice che stiamo bene e che si manifesta in tutto il corpo è bellissimo non so se vedete questa immagine è proprio la sensazione e viene dall'acqua spesso quando beviamo l'acqua prendiamo l'energia vitale di quell'acqua che ci aiuta a pulire molto soprattutto anche quando abbiamo vissuto un'emozione forte intorno al viso e quello che vedo è questo vedete che sta cercando l'eterico di sprigionare tutte le emozioni a tristezza quando non ci arriva arrivano le lacrime per aiutare a sgorgare l'intensità emotiva sono spesso emozioni non vissute che rimangono che scendono del corpo superiore che del corpo emozionale e che si vanno a incastrare sul corpo eterico perché si densificano fino a passare ad un livello più sottile come può essere nel corpo emozionale e si vanno a ritrovare nel corpo eterico eccolo qua rappresentato lo vedete quindi la prima capa che abbiamo e l'esperienza che spesso si fa per imparare a vedere il corpo eterico è che l'esercizio che è stato fatto nel 1901 da Charles Bitter che ha tagliato un foglio una foglia e si vede durante qualche secondo rimane il fantasma della foglia ossia che l'eterico rimane durante qualche tempo ed è quello per esempio anche per le persone che fanno i dolori quando hanno un altro fantasma quando hanno perso un braccio una gamba e hanno ancora male dove non hanno più il braccio perché l'eterico è rimasto anche ogni tanto dopo anni queste sono proprio le terapie adatte per sistemare questo per che si riassorba il corpo eterico ma l'ho visto tante volte ed è questo corpo eterico anche che permette in judo nelle arti marziali di proiettare anche il braccio sottile fuori dal braccio fisico e di far cadere l'altro senza toccarlo questa è una cosa ci sono diversi maestri cinesi che sono in grado di farlo l'ho visto fare effettivamente le tue Laura sono capaci di staccare e questo braccio e questo braccio ha una forza si è denso uguale a quella del fisico ecco perché gli antichi egizi lo chiamavano il doppio d'altronde il suo hieroglifico sono due braccia alzate e rappresenta proprio come a destra come a sinistra uguale lo specchio della realtà fisica vedete anche questa è una immagine una foto che ho preso una foglia e vedete tagliando velocemente la parte centrale su una telecamera si riesce a vedere in centro ecco durante qualche istante qualche frazione di secondo una presenza che poi viene tolta lentamente che si riassorbe e quindi ci sono quattro livelli non vado in dettaglio perché si vorrebbe troppe spiegazioni ma anche lì anche a questo livello solo a questo livello ci sono anche i diversi chakras e i diversi centri energetici del corpo e quindi questo è un disegno di Barbara Andrenan grande maestro in questo campo ok e adesso finisco qua che chiaramente si manifesta in tante letterico si manifesta parecchio anche con l'emozione anche sul fisico ed è lui che è la causa delle rughe quindi sicuramente vi interessa questo argomento adesso torno a la visione normale per lasciare lo spazio alle vostre domande perché vorrei fare rapidamente un piccolo esercizio mi piacerebbe ma prima vorrei rispondere allora dove si possono studiare questi concetti esiste un manuale sulla nottegna fisiologica sottile beh sì esistono diversi sono un po' difficili da leggere chiaramente ci sono radici antiche cinese della medicina cinese della medicina semplicemente della medicina hinduista della Yorveda che parla tantissimo di questi corpi sottili queste sono le fonti antiche vi consiglio il libro di Harish Johari Harish c'è Charles Lee Bitter che ha scritto diversi libri un libro intero sul corpo eterico quindi sono affascinanti sì sì e poi spero se avrò un po' di tempo di scrivere anch'io un libro un po' più di divulgazione perché per rendere cose concrete no? perché se non rimangono a questo grazie Bernardo vorrei chiederti come mai pur essendo una persona sensibile a tutto questo provo spesso delle resistenze a sentirne parlare grazie Sheila ah non so perché non hai problemi perché forse potrebbe essere questo ho notato che quando abbiamo avuto toccato queste cose in passato in vite passate e che non ci è andato molto bene e che abbiamo avuto piccoli conflitti con la società e che abbiamo dovuto sopprire delle conseguenze spesso accade che quando sentiamo parlare di queste cose dicono aspetta un attimo questo non mi risuona e quindi si crea una paura una paura profonda una paura interna che chiaramente viene legato alle vite passate potrebbe essere non so non sono specialista allora ci farà una lezione sulla coscienza e sulla sua evoluzione da parte di Nishi beh questo sarebbe un tema non di una serata ma di una settimana perché la coscienza è una cosa che mi piace tantissimo in questo momento sto scrivendo il mio secondo libro e quindi sto parlando anche di concetti della coscienza e quindi spero di renderlo più piacevole possibile quindi ho scritto un primo libro sul perdono e il secondo libro proprio sulla coscienza diversi stati di coscienza che è fantastico allora che bella persona sta placando la mia forte ansia per un problema di salute familiare grazie mille meno male grazie buonasera quando ascolto questi argomenti ho sempre l'impressione di tornare a casa e questo è il mio desiderio è di farvi tornare a casa perché è di capire anche con lo spirito di un bambino a scoprire queste cose ma il tempo passa non posso rispondere a tutte le eh sì potrei parlare dire qualcosa sui spiriti guida faccio due giorni di corso sui spiriti guida ben volantieri ma sarebbe un po' complicato farlo ma chi lo sa comunque sono temi appassionanti quindi vorrei passare adesso alla pratica perché non vorrei lasciarvi senza qualcosa di concreto da perché vanno bene tutte le definizioni del mondo ma ci vuole concretezza ci vuole capire il perché il per come e per quello vorrei entrare con voi a viverlo vi chiedo semplicemente di chiudere gli occhi ok semplicemente chiudere gli occhi e prendere una grande respirazione e è un piccolo esercizio semplicissimo che parte da un concetto che si ritrova sia nella medicina cinese medicina ayurvedica anche la medicina degli antichi egizi medicina esena lì dove va la coscienza va l'energia dove noi mettiamo la nostra coscienza ecco che va l'energia quindi vi chiedo nel vostro corpo di individuare un punto che è dolente fragile in difficoltà credo che se non avete vent'anni se avete come me un po' più di qualche volta più di vent'anni sicuramente non avrete problema a trovare un punto del vostro corpo che in questo momento non sentite leggero sentite fastidioso difficile doloroso quello che volete ma solo uno poi esercizi lo potete rifare a casa tranquillamente su altri posti ma vi chiedo in questo momento di sceglierne uno solo quello più importante ok l'avete trovato allora vi chiedo di mettere la mano sopra se riuscite a raggiungerla chiaramente per esempio vado a prendere l'esempio delle spalle questo è un mio dolore spesso le spalle e mi metto la mano sopra e vi chiedo semplicemente di dirmi di mettere tutta la vostra coscienza sotto la vostra mano ossia che dovete essere tutto intero sotto la vostra mano non so se riuscite a farlo provate a vedere il dolore che sentite e mettete come se voi rimpicciolite e vi mettete sotto la vostra mano e a quel punto osservate cosa cambia e sono sicuro che tra pochi istanti qualcosa inizierà a muoversi perché? perché mettendo la nostra coscienza lì sotto la mano attiviamo il corpo eterico cosa fa il corpo eterico? cerca di lavare di sistemare ecco perché lavora tantissimo di notte cerca di lavare e di togliere i nodi che ci sono quindi stiamo anticipando il lavoro che farà questa notte e gli diamo del tempo vi chiedo semplicemente di prendere di prendere un grande respiro e di portare l'aria del naso che entra nel naso e lo portate per me sarà la spalla perché ho scelto la spalla ma se avete scelto la mano portatele la mano siete scelto i denti portatele i denti eccetera ognuno a seconda del luogo che ha scelto lo respiro e porto quest'aria e vi chiedo di respirare adesso più forte per stimolare perché il corpo eterico è il corpo vitale molto forte quindi si accende con il prana con il respiro l'energia e porto questa energia così forte verso questo punto di nuovo respirando forte e tutta l'aria fresca arriva qua di nuovo qua dove chiaramente o il dolore o la difficoltà questo dovrebbe stimolare e vi chiedo di fare almeno dieci volte un ispiro grande come lo sto facendo adesso per portare verso la zona e quindi muovete il corpo anche ecco ancora contate al vostro ritmo vi chiedo semplicemente di contare fino a dieci io personalmente sono al quarto ma ognuno segue il suo ritmo un po' di un po' di E posso togliere la mano. E adesso vi chiedo di sentire la sensazione che avete. È uguale o è diversa? E sono sicuro che già un cambiamento è arrivato. Non significa che non c'è più il dolore, non è questo. Ma all'inizio per molti ci sarà un'accentuazione del dolore perché l'eterico inizia a parlare alla coscienza e a mettere in contatto questo dolore che è il corpo che parla. Alla coscienza quindi lo aumenta. E per quello che ho respirato fino a dieci volte, per lasciare il tempo che la coscienza possa integrare il messaggio delle cellule, e poi dovrebbe arrivare una pacificazione. Una pacificazione che rende che tutto sia possibile. Quindi questo domenemente adesso vi chiedo di fare una verifica perché c'è un santo maso dentro di noi che dice aspetta un attimo, sarà vero oppure no? Vi chiedo di muovere quella parte che avete scelto, che è stata trattata, e di muovere l'altra. E vedrete la differenza. La parte sul quale l'energia vitale è stata smossa, è stata spinta, dovrebbe essere molto più fluida, molto più leggera, la sensazione, che quella parte che non ho lavorato dell'altra parte. Quindi se avete lavorato sulla parte sinistra, allora provate a vedere la differenza con la destra, e viceversa, ok? Come vi sentite adesso? Sento maggior leggerezza della zona. Questo è il segno. L'eterico del corpo vitale parla di leggerezza. Si va bene, ci sentiamo leggero. Ogni talvolta che il nostro corpo diventa pesante, sapete che c'è una mancanza d'energia del corpo vitale. Ed è una cosa importante. Se la mia vita spirituale, qualunque essa sia, è giusta, dovrebbe rendermi gioioso, dovrebbe alleggerirmi. Se invece quello che sto facendo, la mia vita spirituale, le mie pratiche spirituali, mi rendono pesanti, significa che non sono adatta a me. Non così. Vanno modificate, cambiate, perché la vita spirituale, se vogliamo che duri nel tempo che la manteniamo, per forza deve rimanere leggera, per forza deve passare dalla parte più densa dei corpi sottili, il corpo eterico. Ho riso perché immagino tutti noi come martirini. Sì, è vero. Ma vi propongo, ogni volta che avete un dolore, vedrete che la maggior parte dei dolori sono dolori eterici. e se c'è una modifica avete la conferma con questo esercizio che è un dolore eterico. Ci sono tantissimi altri esercizi, ma il tempo stringe, ho già sforato un po', ma volevo prima di tutto invitarvi a rifare questo esercizio più spesso possibile e dirvi grazie del vostro ascolto e un grande, grande grazie particolare a Anna Tamborini che con il suo delizioso sorriso ci ha invitato questa sera. Bernard, io ti ringrazio a nome di tutti i nostri amici che ci hanno seguito. So che sei stato veramente molto disponibile nei nostri confronti a quest'ora, anche so che tu hai molti impegni, quindi rinnovo ancora questo ringraziamento anche da parte di Enrico e noi saremmo ansiosi di riaverti di nuovo qua alla LUPES e la prossima volta penso che insomma arriverai da solo, ecco, o verrai accompagnato ancora. Vediamo, insomma, se hai piacere vengo a accompagnarti, se no iniziamo le nostre dirette voglio avvisare i nostri amici e ricordare tutti che Bernard viene, come tutti i docenti della LUPES una volta al mese e che il prossimo appuntamento sarà per il giorno dopo, il primo giorno di primavera, per lunedì 22 marzo. E quindi noi saremmo tutti pronti qui a fare gli eserciziati. Anch'io ho fatto l'esercizio, effettivamente io sentivo muovere sotto proprio, mentre sentivo proprio muovere, ecco. E dopo sì, anch'io ho sentito la leggerezza, ecco, dove ho messo le mani. Quindi anche questo è molto bello, no? Se possiamo ogni volta fare qualche esercizio pratico, penso che siano tutti contenti, no? Per poter sperimentare. Allora, grazie infinite Bernard, grazie. E grazie a te Enrico. Grazie a tutti chi mi ha seguito e praticate a casa, perché sono esercizi molto importanti. La prossima volta parleremo ancora, andiamo a approfondire ancora questo tema e poi passeremo al livello delle emozioni. Molto bene. Allora, appuntamento tutti quanti alla prossima lezione, 22 marzo, tutti presenti. Bernard, grazie, grazie infinita. Grazie per questo tuo insegnamento, per questa tua indicazione pratica, no? Che è una cosa che fa sempre molto bene, no? E aiuta molto le persone. Allora, arrivederci al prossimo mese e ancora grazie a tutti voi, cari amici. Vi ricordo che domani sera ci sarà un'altra lezione della LUX con Giovanni Pelosini sulla storia della tarologia e poi mercoledì, non mancate, perché nel mio salotto ci sarà Anna Maria Turi, con lei parleremo della grande natuzza Ebola. Buona serata a tutti. Bernarda, ancora grazie infinita. A presto a tutti. Grazie. Non vogliono staccarsi. Non vogliono che ci stacchiamo, che si concluda, ma adesso ce la faremo a chiudere. Ecco, stavolta andiamo davvero. Ciao a tutti e grazie. Grazie. Alla prossima. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.